Luglio 2004, vengo a lavorare al mattino, avevo tre dipendenti, allorché a otto e mezza viene la guardia di finanza per un controllo in azienda e siamo piccoli noi, quindi cominciano a controllare un po' tutto, un po' di qua, un po' di lì, un po' le scarpe e stanno qua fino a undici e mezza, praticamente undici e mezza se ne vanno, non mi hanno fatto nessuna multa grazie a Dio, però si vede che io ero un po' agitato e già aver perso tre ore al mattino e tutto il resto, non siamo andati avanti col lavoro, il primo pezzo di legno che io ho preso per lavorare, per fare quello che faccio tutti i giorni, sono entrato in una macchina, questo è stato il risultato purtroppo irrimediabile e come mi sono visto la prima volta mi è caduto il mondo addosso perché ho detto qua non riesco più a lavorare, la mia attività va a finire, ho due figli piccoli, hai capito? Invece poi dopo col buon senso e con tanta voglia di ripartire, ti dirò di più e ho perfino imparato a parlare col mancino, a scrivere con la mancina, con la mano mancina, perché la destra, non so cosa riuscirò a fare e non fare. Quanto tempo sei stato fermo? Io pochissimo, io tre mesi, come mi hanno tolto i punti, io ero qua al lavoro, sono stato fermo pochissimo perché lavoro sul mio, quindi sai com'è, si va avanti, però all'inizio è stato, come ti ripeto, veramente difficile per me, i pensieri erano alla famiglia, al lavoro e poi dopo, ti ho detto, la voglia di ripartire è stata tanta e sono stato premiato, vado avanti e adesso è diventata una cosa normalissima dove non faccio neanche più caso, neanche se mi guardano, cioè niente proprio, veramente.